Il maltempo arriva in Sicilia, diverse le città dell'Interland di Catania che oggi si sono svegliate sotto la neve. Scuole chiuse a Nicolosi, Maletto e Bronte. Le difficoltà maggiori sono state causate dal gelo che ha reso scivoloso il manto stradale, rallentando la viabilità. A Denna, l'Università Corea ha interrotto le sedute d'esame, ma la struttura resterà comunque aperta mentre le scuole sono chiuse. Disaggi nel Messinese e nella provincia di Palermo, in particolare su Nebrodi e Madonie, dove sono attivi Spalaneve e Spargisale. Difficoltà di transito anche sulla Ragusana. Stamani, lingua glossera, coperta da oltre 40 cm di neve e si lavora per l'apertura delle piste da sci di Piano Provenzana, che sarebbe imminente. Intanto, ieri sull'Etna, diversi automobilisti sono rimasti bloccati sulle strade che conducono al rifugio Sapienza. Suggestive, infine, le immagini che giungono dalle olie con lo stromboli imbiancato. Secondo gli esperti, le temperature torneranno a salire mercoledì.